ben trovati a tutti sul mio canale qui sempre a dimme che vi parla oggi sono ancora su call of duty black ops 4 su console sony playstation 4 e voglio condividere sul canale con tutti voi l'apertura di queste dieci casse che mi sono conservato apposta per l'occasione dicevo l'apertura di queste dieci casse di riserva del mercato nero che ho diciamo conseguito giocando man mano senza acquistarle con i cp i punti che possono essere acquistati i soldi qui abbiamo il nostro caro mercante e ci invita ad aprire proprio le valigette comunque senza perdere altro tempo andiamo ad aprire subito la prima e letto la politica sui rimborsi ecco abbiamo preso cremisi del del personaggio specialista ajax ok continuiamo ad aprire seconda cassa delle dieci cos'altro posso darti alba rossa completo personalizzato per nomad ok è un è un completo apriamo un'altra vediamo cosa cosa ci riserva ancora per ajax per lo specialista ajax un'altra pittura di guerra andiamo avanti stavolta specialista prophet una pittura di guerra perfetto andiamo avanti ne mancano altre sei grazie per l'acquisto questo è un adesivo stavolta ci ha dato un adesivo serpente del mondo queste sono tutte per chi non sapesse ovviamente di cosa stiamo parlando su tutte quelle che non sono riuscito a conseguire quando erano state messe a disposizione io non acquisto mai punti cod e quindi non riesco sempre a conseguire tutto quello che viene messo a disposizione del mercato nero comunque andiamo ad aprire subito la prossima cos'altro posso da completo personalizzato per sera ok cobalto si chiama abbiamo subito la prossima benissimo questo è un altro adesivo gli adesivi sono utilizzabili si giusto botta mortale si chiama questo qua quindi apriamo subito anche l'altra vediamo pittura di guerra personalizzata per recon classico ok cavolo però se penso a quanto tempo ci ho messo per poterle guadagnare tutte queste case con una rapidità incredibile le sto aprendo per rifarne altre 10 mi ci vorranno almeno una settimana o due proprio minimo comunque andiamo avanti una bella pittura di guerra leggendaria onda d'urto è per profet e ci manca l'ultima andiamo avanti completo personalizzato per profet e si chiama giungla questa è rara molto bene penso di averle terminate si figurate se ce ne regala qualcuna posso uscire tranquillamente e ovviamente per chi già le ha sa di che cosa stiamo parlando io purtroppo non ero riuscito ripeto a guadagnarmele perché comunque ho acquistato black ops 4 un po più in ritardo rispetto ad altri però sto riguadagnando terreno pian piano anche se però non ci riesco tanto a nerdare ma non è un problema comunque ragazzi il video riguardava solo l'apertura di queste dieci casse di mercato nero delle riserve e ci vediamo al prossimo video come sempre un arrivederci da adime ciao a tutti